Ciao Licia Ciao E cosa stai facendo qui? Sono al banchetto Via Dante Il banchetto che si tiene per 72 ore Non stop anche di notte Del Movimento 5 Stelle Per dare informazioni a tutte le persone Che passano sul nostro movimento Qual è il nostro programma Quali sono le nostre iniziative Brava, hai colto la palla al balzo Per farti una bella pubblicità Complimenti Senti Alice Volevo dirti una cosa Sai che ci sono le regionali in Lombardia E il movimento è in Diciamo in forte ricerca Di volti femminili Femminili Pensi di candidarti? Sì penso di candidarmi E ho dato proprio a questo proposito Ho dato vita da circa un paio di mesi A un gruppo di lavoro Di fare opportunità E fare riconoscimenti per le donne Ci siamo già incontrate un paio di volte E a questo gruppo Ci sono anche uomini Che stanno collaborando con noi Per portare delle proposte All'interno del programma Sui temi legati Alla conciliazione Tempi di lavoro Tempi di vita Sui temi di lavoro E alle differenze di genere Ho capito Senti come mai hai deciso Quindi prima di tu di avvicinarti al movimento Io seguo il movimento dalla sua nascita Da quando Beppe Grillo nel 1999 Ha iniziato a fare il blog E mi ero iscritta già dall'inizio Poi ho avuto una famiglia Ho una bambina di 10 anni Lavoro tutto il giorno Per cui avevo poco tempo Da dedicarmi a tempo pieno Anche ad altre attività E ho deciso di dedicarmi al movimento Perché credo che sia Una nuova forma di fare politica Che sia la forma di fare politica del futuro In cui tutte le persone Ogni cittadino deve essere coinvolto E deve farsi parte attiva Per cambiare questo mondo E per migliorarlo Senti quindi al momento Tu dicevi hai quindi una famiglia Una figlia Lavori giusto? Sì lavoro in banca Ecco come Al momento come Cosa ti occupi nel movimento? In questo momento nel movimento Come dicevo mi occupo Principalmente dei temi femminili Poi sto lavorando attivamente Femminili e pari opportunità Per cui abbiamo lavorato anche Durante le assemblee regionali All'interno del gruppo di lavoro Pari opportunità Che è un concetto un po' più allargato Senti tu praticamente sei di Milano Giusto? A Milano ci sono state del comunale Ci sono dei gruppi attivi Sì Ecco hai avuto modo di interagire Con chi magari è nel consiglio di zona Piuttosto che in consiglio comunale Sì sì ho avuto modo di interagire Con le persone che sono attive Nella mia zona di zona 5 Abbiamo fatto dei banche In zona 5 dove Andrea Garluzzo Corrisponde? È la zona sud di Milano La zona diciamo dei Navigli Io abito in via dei Missaglia Perché c'è tutta la zona dei Navigli Tutta la zona di Porta Romana Via Ripamonti Questa è la zona 5 di Milano Che è la parte sud di Milano Ci puoi spiegare un attimo Il metodo di lavoro Usato quindi in zona 5 O comunque nei gruppi Di cui fai parte? Il metodo di lavoro Che stiamo utilizzando in zona 5 È quello di fare una serie di denunce Per tutto quello che riguarda l'amianto Perché nella zona ci sono diversi edifici Che hanno problemi di amianto Che non sono neanche stati censiti Dal comune di Milano Stiamo portando avanti questa iniziativa Stiamo fotografando nell'area Perché c'è un altro grande problema Che ci sono dei rischi di scariche a cielo aperto Stiamo cercando di fotografare Di portare su Facebook Di portare all'attenzione delle persone Tutte le discariche che ci sono a cielo aperto Abbiamo fatto una raccolta firme Una petizione popolare Per una discarica che c'è in via Selvanesco Dove vengono bruciati anche rifiuti tossici Vengono anche portati rifiuti all'amianto Che chiaramente inquinano la città Scusami Alice Quindi era un attimo per precisare Quindi voi avete fatto una raccolta firme Sì Una petizione Una petizione Quindi praticamente l'avete presentata Tramite i consiglieri di zona 5 del Movimento Stiamo ancora raccogliendo le firme Stiamo ancora raccogliendo le firme Perché sono state raccolte circa 200 firme Quindi praticamente verrà presentata Una petizione con firme dei cittadini Insieme con le foto e le relazioni dei luoghi Certo Quante persone vi state occupando di questo lavoro? Siamo circa una decina di persone Poi l'altra iniziativa che abbiamo fatto In zona, nel quartiere Missaglia C'è un parco pubblico Che è da 20 anni Che ha le panchine totalmente rovinate E dismesse E è stato segnalato al consiglio di zona E al comune Questa situazione Non è stato fatto nulla Noi ci siamo attivati Abbiamo sistemato le panchine Abbiamo ripitturato il parco giochi E abbiamo coinvolto i cittadini Che sono venuti Anche i bambini Sono venuti a pulire il parco A rifare le panchine Non vi hanno denunciato per Assolutamente Anzi la popolazione era con noi E ci hanno aiutato E ci hanno dato una mano Bene Vediamo il capitolo quindi Regione Allora quindi tu ovviamente Vuoi farti conoscere attraverso questo video Quando Quindi siccome è probabile No? A meno che non ci sia un colpo di Stato Che insomma qualche volta del movimento ci sarà Supponi di non essere eletta Cosa farai? Beh Quello vorrei continuare a lavorare Su questo tema Delle donne Poi io devo dire Altri temi che sento molto vicini Sono tutti i temi del lavoro Anche il lavoro dei giovani In quanto io mi sono occupata Per tanti anni Dell'alternanza scuola-lavoro Del tema dello stage Dell'inserimento dei giovani Nel mondo del lavoro Per cui E in che modo l'hai seguito? Lavoravo in Università Cattolica All'interno dell'ufficio stage Ho dato vita Non c'erano gli stage E quando sono entrata E dopo sei anni Avevamo più di 300 stage attivi Ho creato l'ufficio stage All'interno dell'università E oggi continuo a lavorare Con l'ufficio stage E ho collaborato anche Alla creazione di una legge Perché nel 96 Non c'era la legge sugli stage E abbiamo collaborato Abbiamo collaborato Con le varie istituzioni Il Ministero del Lavoro Per creare una legge Di stage Per chiaramente Poter formalizzare Questo tipo di iniziativa Interessante Quindi Passaggio per gli attivisti Perché dovrebbero Scegliere Alice Tranchellini Perché dovrebbero Scegliere Perché dovrebbero Non scegliere Ma indicare Alice Tranchellini Come il portavoce Uno dei portavoce Che in regione Rappresenterà il movimento E soprattutto I cittadini lombardi Perché mi piace L'idea Di rappresentare Di essere rappresentante Di tanti Di ascoltare Tante persone E di riuscire A sintetizzare Chiaramente Una necessità A me Quello che piace molto È proprio Mantenere un dialogo aperto Per cui Poter attivare Tante persone E ricevere Tante stimoli E tante proposte Perché vedo Che solo in questo modo Riusciremo a cambiare Qualcosa Sia all'interno Della regione Ma un appello Ai cittadini Che ti voteranno Vuoi farlo Fin da ora Perché tu Supponi che domani Ti trovi In consiglio regionale L'appello che faresti Ai cittadini E agli attivisti Qual è? Attivatevi Attivatevi Collaboriamo tutti insieme Per migliorare Questo paese E questo Tante Tante Quello che Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.